Ah 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 Arex, che fai? Shhh, non parlare, vastatore! Ma, che c'è? Sto spiando, Veloci Marco! Sto cercando di origliare! Ma che dici? Non puoi mica fare una cosa simile! Zitto, zitto, lo sto facendo per il suo bene! Per il suo bene? Sì, e con un altro Veloci Raptor! E quindi? È normale! Avrà sicuramente trovato un amico della sua stessa razza! Che c'è di male se un Veloci Raptor esce con un altro Veloci Raptor? Non mi fido di quell'altro Veloci Raptor! E se facesse del male a Veloci Marco? No, 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 non mi fido! Perciò rimango qui e lo proteggo segretamente! Ma dai, magari si stanno divertendo, lasciali stare! No, no, quel Veloci Raptor che sta con lui è sicuramente cattivo! E sono sicuro che da un momento all'altro partirà all'attacco! È solo questione di tempo! Ma dai, secondo me stai esagerando! Ma sì? Guarda tu stesso! Vediamo! Eccoli lì! Ma non si vede niente! Si vedono solo le ombre! Vabbè, tanto basta per capire la situazione! Guardali bene! Ma a me sembra che stiano solo parlando! A me invece sembra che quell'altro Veloci Raptor stia per attaccare Veloci Marco! Bisogna stare attenti! Può essere molto pericoloso! Oh, mia cara Veloci Sara! Sei così bella! Anche tu sei bellissimo, Veloci Marco! Spero tu possa amarmi nonostante io sia molto più bassa di te! Non è l'altezza che conta, tesoro mio! Tu per me sei perfetta! Oh, anche tu sei perfetto! Riesci a sentire quello che dicono, Vastatore? Ti ricordo che io sono un po' sordo! No, sinceramente non sento granché nemmeno io, ma staranno sicuramente parlando, dai! Non essere così diffidente! No, no, secondo me si stanno studiando! Si stanno preparando per attaccarsi a vicenda! Ho voglia di baciarti, mia cara Veloci Sara! Oh, anch'io Veloci Marco! E allora baciamoci! Oddio, Vastatore, che stanno facendo? Ah, non lo so, tu che dici? Oddio, non posso guardare! Oddio, no! Si stanno sbranando! Oh, no, Vastatore, dobbiamo fare qualcosa! Ma no, Arex, a me non sembra proprio, dai! Oddio, si uccideranno a vicenda! Oh, mia cara Veloci Sara! Questo bacio per me è stata pura poesia! Anche a me è piaciuto tanto! Abbracciami, amore mio! Ma certo che ti abbraccio! Oddio, Vastatore! Lo sta uccidendo! Lo sta uccidendo! È orribile! È orribile! No, Vastatore, non posso restare qui a guardare! Devo entrare in azione! Ah! No, Arex, che fai? Ti amo, amore mio! Anch'io ti amo! Ah! Ai! Aia! Oh! Lascia stare il mio amico Veloci Marco! Ah! Ma, quello è tuo amico? Ah! Sì, ma non farci caso, amore! È tutto ok! Ma tutto ok è un corno! Era qua dietro a spiarci! Mi meraviglio di te, Veloci Marco! Non credevo avessi degli amici così stupidi! No, dai, amore, non fare così! Io ti lascio! Addio! No! Ti prego, torna qui! Oh, tutto è bene quel che finisce bene! Ma insomma, dai! Lo hai fatto lasciare dalla sua ragazza! Ma quale ragazza? Quello era un Veloci Raptor spietato! Stavo aspettando il momento giusto per azzannare Veloci Marco! Un giorno mi ringrazierà! Bah! Se lo dici tu! Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, Avastatore! In realtà io non ho fatto niente! Anzi, non ero nemmeno d'accordo con il tuo piano! Ma ci pensi se io e te ci mettessimo ad andare in giro a salvare e difendere dinosauri innocenti? Ah sì, guarda, proprio come due supereroi! Hai detto supereroi? Wow, ottima idea, Avastatore! No, ma io non intendevo! Ma ci pensi? Io e te che andiamo in giro a proteggere il mondo, a salvare le vecchiette, a mettere in fuga i prepotenti! Eh, in realtà non... Saremmo fantastici, Avastatore, pensaci! Ma sinceramente non penso che... Dobbiamo pensare subito ai costumi! Aspetta! Ma che... i costumi? Ma che dici? Allora, questi qua sono i fogli e iniziamo a disegnare! Allora, facciamo che questo sei tu, no? Questi sono i tuoi... i tuoi denti brutti! Facciamo che ha qualche altra squama qua! Ta-da! Allora, stavo pensando, no? Che siccome a te l'arancione sta così bene, un costume da supereroe arancione sarebbe perfetto per te! Quindi, prendiamo l'arancione e progettiamo un bel mantello lungo! Ta-da! Che te ne pare? È orribile! Ma va, è bello, raffinato, elegante! Chic e all'ultima moda! E poi nessuno sarà in grado di scoprire la tua identità segreta! Ah, sì, immagino! Adesso pensiamo al mio! Allora, questo sono io, no? In coloro tutto di verde... Vabbè, si è capito! E per creare un po' di contrasto con la mia bellissima pelle verde, direi di farci una maschera rossa! E anche il mantello rosso! Ta-da! Che te ne pare? È anche più brutto del mio! Ma dai, che è figo! Ma cosa sono queste cose verdi sul mantello? Ah, quelli sono ortaggi e verdure! Ortaggi e verdure? Sì! Perché a me piace la verdura! Ma che c'entra, dai! Anche a me piace mangiare gli esseri umani! Ma non mi vestirei mai con loro! Beh, sarebbe un pochino diverso, eh! E poi questa cosa delle verdure sul mantello fa tanto Lady Cacca! Chi? Lady Cacca! Lady Gaga! Vabbè, sì, quella! Senti, e questa cosa arancione che cos'è? Ah, quella è una carota! Pure la carota! Sì! Vabbè, quando l'avrò finito poi sarà più carino, dai! Magari aggiungo anche qualche verdura e qualche ortaggio in più! Immagino che bello! Eh sì! Dai, mettiamoci al lavoro! Ecco qua! E per fare i costumi useremo queste! E che sono? Oh, beh, beh, queste sono le fo... Le, le... Le foam... M... M... Lai! Eeeh, cosa sarebbero? Uffa, quante domande fai! Sta a vedere! Allora, tiriamo fuori questa pasta arancione... Mh! Ora togli di la felpa che te la devo modellare sopra! Ma che... Che dici? Togliti la felpa! Sono io il professionista! Ah, va bene! Ne, 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 ne... Non ti azzardare a continuare! Ok, scusa! Allora, mettiamoti un po' di questa pasta sopra... Facciamo i buchi per gli occhi... Mettiamo un cornicchio qui... Facciamo anche qualche corna qua sopra! Ora stendiamo il mantello... Mettiamo qui... E, e, e... E, e, e... No, no, ma stai bene, eh? Sicuro? Sì, sì, fidati! Ecco, lo sapevo! Immagino che cavolo mi hai combinato! No, no, c'è, c'è... Ma stai benissimo! Se lo dici tu... Vediamo, come potresti chiamarti? Tu saresti un supereroe potentissimo! Quel tipo di supereroe che farebbe tremare qualsiasi cattivo! Porteresti vendetta e devastazione ovunque! Mmm, allora... Allora, riflettiamo! Se il tuo nome è devastatore e il tuo superpotere sarebbe quello di portare devastazione ovunque, Allora il tuo nome da supereroe sarà... Devastatore! Sì, mi piace! Devastatore! Venti come suona bene? Devastatore! I am devastatore! Hai finito? Sì! Ora tocca al mio costume! Allora prendiamo un po' di rosso e schiacciamolo per benino! Finché non si appiattisce tutto! Ci mettiamo anche le verdure! E tadaaa! Come ti sembro? Sei la cosa più trash che io abbia mai visto! Ma dai che sono stato bravo! Ma guardati, sembri un'insalata! Mmm, insalata potrebbe essere il mio nome da supereroe! Mmm, qualcosa che c'entra con insalata e dinosauro! Dino! Dino e sauro! Cioè, allora, di... Dino... Dininsalata... Dininsalata... No! Eeeh... Insala... Insala... Insaladino! Insaladino! Sì! Insaladino è devastatore! Diventeremo famosi come i più grandi supereroi del mondo! Ah, guarda, immagino! Diventeremo famosi solo per la nostra ridicolaggine! Ma smettila! Saremo i più grandi supereroi mai esistiti! Coraggio, vastatore! Andiamo a salvare il mondo! Andiamo a salvare il mondo! Ah, ragazzi! Questo video imbarazzante finisce qui! Spero che almeno a voi sia piaciuto! Mi raccomando, cliccate qui per iscrivervi al canale! E qui per guardare anche gli altri video dedicati ai vostri giocattoli preferiti! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti!